Buongiorno a tutti, mi chiamo Ines Oave e sto frequentando il primo anno del dottorato di ricerca in scienza e dell'ingegneria presso l'Università degli Studi di Ferrara, grazie ad una borsa di studio finanziata dalla Regione Emilia Romagna. La mia attività di ricerca riguarda lo sviluppo di nuove tecniche per il monitoraggio e la diagnostica dei più comuni sistemi meccanici, mediante l'analisi delle vibrazioni misurate direttamente sul campo. Questa tematica è molto calda al giorno d'oggi nell'ambito industriale, poiché il monitoraggio continuo dello stato di salute di un componente permette allo stesso tempo di evitare grossi guasti e ridurre i costi, fattore fondamentale per sopravvivere nel mercato odierno. L'attività che sto svolgendo mi permette di esplorare il mondo della ricerca senza però perdere contatto con la realtà e quindi allo stesso tempo toccare con mano quelle che sono le tematiche principali a livello industriale. Infatti non bisogna mai dimenticare che uno dei fini principali della ricerca è quello di avere un forte impatto nel mondo reale, soprattutto in un contesto come quello odierno dove il mondo è in continua evoluzione e la ricerca deve saper soddisfare al meglio le sue richieste.